Piccolissimi disagi che potranno essere nell'ordine di un pochino più di spazzatura nei cassonetti, di un po' più di fila di camion davanti all'impianto. Questi sono i disagi. Quello che però si deve capire è che tutta la linea termica è quella che produce l'energia per gli altri impianti che stanno lì intorno. Quindi si produce un danno economico. Non avendo energia autoprodotta dobbiamo prendere l'energia dalla rete, ad esempio per alimentare il compostaggio. E quindi questo è un danno economico nell'ordine degli 8-10 mila euro al giorno. Un pistone rotto spegne il forno del termovalorizzatore di San Zeno. È Giacomo Cherici, presidente di AISA e Impianti, a rendere noto che ci sarà sicuramente una settimana di stop forzato. All'impianto si è rotto il pistone che fa muovere avanti e indietro la griglia del forno. Questo pistone, insieme al suo collega pistone, muove questa griglia per ottimizzare la combustione del forno. E quindi praticamente si è disassata la griglia. Ciò implica di dover chiaramente fermare il forno, aspettare il raffreddamento e quindi intervenire per rimettere tutto a posto. Una settimana di lavoro buona. Il rischio da scongiurare è che l'intera filiera si blocchi. Per questo l'appello verso i cittadini a tentare di ridurre il più possibile la quantità di rifiuti prodotti. Ecco, ai cittadini si chiede allora un po' di pazienza se vedranno qualche sacco di spazzatura in più. Lei però ha fatto un appello preciso, producete meno rifiuti? Sì, sì, io sono piuttosto per le maniere spicce, nel senso che è il momento in cui non bisogna fare gli avanzi. È il momento in cui bisogna darsi da fare per ridurre i rifiuti. Ma i rifiuti andrebbero ridotti sempre perché il rifiuto comunque ha un impatto sull'ambiente. Sicuramente sia che lo facciamo differenziato, che non lo facciamo differenziato è un qualcosa che quando riusciamo a ridurlo si abbassano i costi. Ricordo che i nostri costi industriali sono tra i costi più bassi perché questa organizzazione impiantistica, così proprio a tutto tondo nell'economia circolare, ci consente di ad esempio lavorare a 116-117 euro a tonnellata quando ci sono altre zone che lavorano a 200, 220 e anche 250. Questo è molto importante da capire.